Musica Ubriaco, semina il panico, al pronto soccorso di Pesaro minaccia di morte ai sanitari e prende per il collo un infermiere scattato al protocollo di sicurezza, il giovane è stato fermato dai carabinieri. Al via i lavori all'ex foro Boario, entro giugno 332 nuovi parcheggi, asfalto e luci, soddisfatti residenti e commercianti. Un po' di disagi sì, ma sono disagi comunque accettabili, anche perché si riqualifica la zona e è anche bello per la città comunque. Quartiere di Salazzo Raffano tra incurie e degrado, il Movimento 5 Stelle chiede interventi e un aumento dei controlli da parte della polizia locale. Gli studenti del liceo scientifico diventano insegnanti per il progetto di alfabetizzazione digitale da febbraio al via l'alternanza scuola lavoro con quattro circoli anziani della città. Ecco l'uomo vitruviano di Giuliano Vangi, presentato l'ambizioso progetto che comprende un monumento in acciaio di quasi tre metri, panchine in pietra e due figure in marmo. Si cercano risorse per realizzare l'opera in piazza Veduta. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con l'aggressione avvenuta questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. La direzione ha dovuto attivare i protocolli di sicurezza che hanno consentito al personale di far fronte appunto a un'aggressione da parte di un giovane maggiorenne in evidente stato di ebrezza giunto in pronto soccorso tramite ambulanza in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo, mentre attendeva l'esito degli esami, ha iniziato a minacciare di morte il personale sanitario, prendendo per il collo un infermiere. Poi ha iniziato ad aggirarsi senza vestiti nei locali, continuando con le minacce, danneggiando con un pugno il plexiglass del triage e rovesciando a terra del materiale sanitario. Il personale ha reagito mettendo prima in sicurezza tutte le persone presenti e poi allertando la vigilanza armata tramite il pulsante di allarme installato nei diversi punti del pronto soccorso che ha permesso l'intervento tempestivo dei carabinieri. Passiamo ai lavori in corso all'ex forboario a Fano. Per limitare i disagi, l'intervento verrà eseguito a steppe. Al momento solo una parte dell'aria è inutilizzabile. Stefania Schiaroli è andata a sentire che cosa ne pensano fanesi e commercianti di questo progetto atteso da tanti anni. Lei è tra i residenti che hanno sempre fatto presente i tanti disagi del forboario. Quali sono questi disagi? Chiaramente i parcheggi selvaggi parcheggiano sui cancelli delle case e quindi è sempre un problema. Anche poi in questi giorni che stanno facendo fortunatamente i lavori, i disagi non sono pochi. Però fortunatamente speriamo presto di avere questi parcheggi, un forboario raccolto, accogliente. Anche perché l'altro giorno dovevo uscire dalla porta di casa, chiaramente la macchina davanti il cancelletto di casa, che non si poteva neanche uscire. Quindi è contenta del fatto che finalmente faranno le strisce per terra e la nuova segnaletica? Sì, a parte che diciamo l'aspetto più accogliente, più gradevole, però perlomeno di non vedere più questi parcheggi selvaggi quello. E poi penso che sia giusto anche perché le buche, più che buche direi che ci sono delle vasche. Quindi insomma dai, mi aspetto un bel lavoro. Un'altra cosa importante è che questa strada, così disse stata, crea tantissima polvere. Chiaramente quest'estate abbiamo dovuto tenere le finestre sempre chiuse. Avevamo l'aria condizionata, però è anche giusto aprire le finestre perché quando passavano le macchine sulla curva praticamente si alzavano una nuvola di polvere. E quindi anche qualcuno sta di panni fuori oppure finestra perde era impossibile, veramente impossibile. E quindi poi dopo la gente c'è quella un po' più, diciamo, maldestra che andava forte e quindi la nuvola era talmente alta che sembrava veramente il fumo di un camino. Parcheggia spesso al foro Boario? Parcheggio spesso perché qua ho il mio dentista, il mio ginecologo, quindi la farmacia di riferimento per chi abita qua dietro. Esco proprio adesso dallo studio, non è facile trovare parcheggio. Come potete vedere insomma il parcheggio è tenuto anche in condizioni abbastanza, diciamo, pessime perché sono tutte buche, quindi pericolose anche per i ragazzi che parcheggiano in moto, eccetera. Quindi condivido il fatto che il parcheggio deve essere ristrutturato. Un po' di disagi sì, ma sono disagi comunque accettabili, anche perché si riqualifica la zona e è anche bello per la città comunque. Vedere un parcheggio messo in ordine, ordinato, dà piacere a tutti. Ha sentito la mentele da parte dei cittadini o tutti sono contenti perché stanno sistemando l'area? Ma qualche lamentela c'è per via del parcheggio, che mancano i parcheggi tenendo a conto dei lavori che stanno facendo, ma se no sarebbero tutti contenti, sono contenti. Siamo contenti dei lavori perché sono lavori attesi da molti anni. Speriamo comunque che i lavori procedano spediti secondo le tempistiche indicate. Anche perché spesso accade che non essendoci le strisce per terra, non essendoci la segnaletica, la strada viene proprio bloccata, il passaggio viene chiuso. Sì, effettivamente è una cosa che già accadeva prima per la mancanza della segnaletica orizzontale e anche per la ridotta durata di questa quando veniva rifatta, perché purtroppo il manto stradale era in condizioni pessime e quindi per questo siamo contenti comunque anche dei lavori. Purtroppo queste chiusure bloccano comunque anche se i clienti, ma anche noi che usufruiamo del parcheggio per venire a lavorare, a volte ci troviamo bloccati dal parcheggio selvaggio. Ci spostiamo nel quartiere di San Lazzaro che per il Movimento 5 Stelle è lasciato in uno stato di degrado e abbandono. Mediante un'interrogazione i consiglieri comunali chiedono interventi di riqualificazione ma anche più controlli da parte della Polizia Locale. Asfalti, pulizia, sicurezza, punti di aggregazione, panaruni, di che cosa avrebbe bisogno secondo voi il quartiere di San Lazzaro a Fano? Sì, innanzitutto volevo ringraziare Fano TV che ci dà la possibilità di dire anche ai fanesi quello che il Movimento 5 Stelle fa all'interno del Consiglio Comunale. Appunto come il Movimento 5 Stelle noi siamo sempre stati attenti a quelle che sono le segnalazioni che ci arrivano dal territorio e nello specifico il quartiere di San Lazzaro ci è stato segnalato che effettivamente sono tanti anni che non viene fatta un'opera di riqualificazione. Andando a passeggiare nel quartiere ci si rende conto della pericolosità del quartiere stesso, ovvero ci sono le solite buche nelle strade pericolose non segnalate, ma soprattutto attraversamenti pedonali dove il segnaletico orizzontale nel tempo è completamente scomparsa. Questi attraversamenti non sono nemmeno attenzionati nelle ore notturne con un'adeguata limonazione come è stato fatto magari in altri quartieri. Però girando in tutto il quartiere ci si rende conto che il piazzale Bonci dove c'era l'edicolo non è stato più rimesso a posto, la viuzza Guasco che porta nei giardini non ha cestini, non è illuminata, lo sgambatoio che è stato fatto dall'amministrazione però non è adeguatamente curato, non è messo in sicurezza la parte esterna, tra l'altro è frequentato anche dai ragazzi che vanno alle scuole in quella zona. Ci vorremmo insomma mettere mano finalmente anche in questo quartiere, che ricordiamo che è un quartiere molto popolato, fatto non solo di ragazzi che vanno a scuola, ma anche di gente che ci abita, di anziani, che non hanno un vero e proprio punto di aggregazione, perché lo stesso centro commerciale San Lazzaro non è proprio bene inserito nel contesto del quartiere generale. E avete chiesto anche più controlli? Assolutamente sì, i controlli fanno parte di quello che deve essere un'opera dell'amministrazione che dopo aver messo a disposizione della cittadinanza opere pubbliche ben conservate, bisogna fare in modo tale che ci sia un adeguato controllo. Però a San Lazzaro effettivamente manca proprio la base, cioè ci si rende conto che è un quartiere un po' degradato, con scritte sui muri, con, ripeto, la segnaletica inesistente, con i tragitti pedonali che sono invasi dalle auto, con la scuola arcobaleno, che ci sono rami secchi, penzolanti, pericolosi. Insomma è un quartiere che da tanto tempo non è attenzionato e noi appunto in Consiglio Comunale vorremmo delle risposte per fare in modo tale che anche questo quartiere possa diventare un quartiere vivibile e sicuro da parte di tutti. Dal prossimo 27 maggio si tornerà a volare da Ancona verso Parigi. La nuova tratta è stata presentata in Regione nel corso di una conferenza stampa. Presidente, finalmente si vola e si va a Parigi. Sì, è un appuntamento importante quello di oggi, perché finalmente si va a Parigi e soprattutto da Parigi si può volare in tutto il mondo. Quindi per Ancona è sicuramente una data, per Ancona e per l'aeroporto delle Marche è una data da segnare con il rosso. Questo significa certamente portare la nostra regione, il nostro capoluogo, ad essere presente su dei mercati, su dei circuiti, dove fino ad oggi eravamo non solo assenti, quindi c'era precluso tutta una serie di opportunità. Oggi queste opportunità tornano ad essere tangibili e quindi dobbiamo essere bravi noi a costruire insieme all'Agenzia, con tutte quelle che possono essere energie, che possiamo mettere in campo le opportunità che poi dovrebbero automaticamente tornare sul territorio, concretamente con la crescita della nostra economia turistica, l'internazionalizzazione, la manufattura, i prodotti enogastronomici, tutte quelle che sono le opportunità che poi possono nascere e affermarsi. Su Londra raddoppiate? Londra raddoppiamo, andiamo a connettere altresì l'aeroporto di Gatwick con EasyJet, che è un gradito ritorno dopo anni, oltre ovviamente al volo di Ryanair che è confermato su Stansted. Il combinato risposto tra queste rotte nuove internazionali che abbiamo lanciato in questi giorni, oltre ai nuovi voli di contribuzione reali su Roma, Napoli e Milano, ci permetterà di fare un salto fondamentale per quanto riguarda i flussi di traffico, sia in coming che out going, e che quindi darà una spinta ulteriore per poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi di piano di medio e lungo termine che ci siamo previsti. Anche con la nuova agenzia del turismo stiamo programmando delle visite, delle attività anche internazionali, che ci permetterà poi di comunicare sia i nuovi voli, e congiuntamente con quello che è il nuovo riposizionamento complessivo del brand market del mondo. Due nuove TC, cioè tomografia computerizzata, sono state inaugurate all'ospedale Carlo Urbani di Iesi nell'ambito del piano di rinnovamento tecnologico dell'asta di Ancona. Si tratta di una tecnica diagnostica per immagini che consente di esaminare diverse parti del corpo come polmone, fegato, pancreas e reni. Questa occasione è importante per tutto il servizio sanitario della regione, ha commentato l'assessore Filippo Saltamartini, soprattutto per l'avvio di un percorso innovativo di riforma cominciato il 1 gennaio, che prevede 5 aziende distinte che avranno a disposizione risorse umane, economiche e strutturali. Alla base della rivoluzione c'è un elemento fondamentale, il principio della domanda di prestazioni nelle singole realtà, al fine di abbattere in modo definitivo le liste d'attesa. Ad Ancona invece è stato inaugurato il nuovo convoglio ROC di Trenitalia, un treno regionale a doppio piano, ecosostenibile, riciclabile fino al 97%, che consuma il 30% in meno di energia. È dotato di videocamere in ogni carrozza con riprese live, due postazioni per i diversamenti abili collocate nelle vicinanze delle porte di accesso e nove posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare. Il treno può raggiungere 160 km orari di velocità e trasportare fino a 1130 persone con oltre 600 sedute. Sarà in circolazione da domani sui binari tra Marche, Emilia Romagna e Abruzzo, tra Ancona Piacenza e Ancona Pescara. Entro il 2025, nella nostra regione, arriveranno altri 16 nuovi treni. Passiamo alle vostre segnalazioni. Un nostro reporter di strada ci ha inviato questo video per documentare buche giganti nell'area dell'isola ecologica in via del fiume Afano, vicino all'ex mattatoio. Ecco, lo vediamo adesso che si sposta alla sua destra. Buche asfalto rovinato sono stati segnalati anche in Viale Italia, come mostrano queste fotografie inviate da un telespettatore. Ci spostiamo di pochi metri per una segnalazione video girata tra Viale Italia e Vialdomore. Allora, sentiamolo. Allora, buongiorno a tutti. Qui siamo in Viale Italia, interquartiere nuovo. Qui, che c'è l'obbligo di girare a destra, in moltissimi, di quasi tutti, girano a sinistra qui. E' pericolosissimo fare questa manovra, molto pericoloso. Sarebbe il caso di mettere delle telecamere, per esempio su quel lampione lì, in modo da fare da deterrente a questa manovra pericolosa. Grazie a tutti, buona giornata. Questa mattina al liceo scientifico Torelli è stato presentato un bel progetto che coinvolge studenti e anziani della città di Fano. Gli alunni, infatti, insegneranno agli over 60 l'utilizzo di smartphone e dei sistemi operativi dei computer. 37 studenti nel ruolo di tutor e 4 circoli ricreativi coinvolti con l'obiettivo di rendere le tecnologie inclusive e permettere agli anziani di usufruire al meglio dei servizi offerti da cellulari e computer. E' stata illustrata nell'aula magna del liceo scientifico Torelli di Fano l'iniziativa denominata Alfabetizzazione Digitale. Un progetto pilota che coinvolge gli alunni delle classi terze dell'indirizzo ordinario di scienze applicate e i circoli di Sassonia, Bellocchi, Baia Metauro e quello delle Fontanelle. Dopo la fase organizzativa e di formazione dal prossimo mese i ragazzi in orario extrascolastico incontreranno gli over 60 in un rapporto 1-2 al massimo mettendo in pratica la loro conoscenza teorica a sottolineare l'educazione civica e l'aspetto umano dell'iniziativa la docente Silvia Guida. E' iniziata la formazione pomeridiana in presenza e online i ragazzi faranno un patto formativo con l'anziano e laddove l'anziano ha delle carenze il ragazzo, l'adulto sedicenne è chiamato a colmare queste carenze. E nel dettaglio che cose insegneranno i giovani? E nel dettaglio i ragazzi potranno mostrare agli anziani la parte relativa allo smartphone, quindi se lo perdono, eccetera e anche la parte del PC, desktop, il classico PC con gli strumenti Windows da Word, Excel, PowerPoint. Loro spesso si trovano a fare dei fogli di calcolo, il presidente del circolo, chi lo aiuta nei conti, nel conteggio dell'amministrazione del circolo stesso. Un progetto che rientra in Old But Gold, Assessore. Sì, questo è un progetto come Old But Gold di promozione della longevità attiva e nel promuovere appunto la longevità attiva quindi la socializzazione, l'aggregazione della cosiddetta terza età è bello ed è virtuoso, diciamo. Questa sinergia, questa collaborazione che si è creata anche con le nuove generazioni quindi con la scuola, in particolare con l'Iceo Torelli perché credo che sempre di più oggi ci sia bisogno di, quando si parla di inclusione sociale anche abbattere qualche barriera e una di quelle barriere è appunto favorire quindi promuovere anche l'utilizzo dei dispositivi quindi favorire l'inclusione diciamo digitale anche di coloro che hanno meno dimestichezza. Siccome sono appunto presidi i circoli ricreativi che per noi sono un patrimonio in questa comunità sono dei presidi di socialità sempre di più questi presidi vanno non solo animati da coloro che li frequentano e che li custodiscono ma anche aperti sempre di più alle nuove generazioni. Questa iniziativa, aggiunto Tinti, cercheremo di promuoverla sia come comune che come ambito anche negli altri territori. È un progetto che grazie anche alla Proloco è riuscito ad andare avanti chiaramente con la collaborazione del comune ma soprattutto con la collaborazione di due persone che si stanno occupando appunto del progetto Anziani che sono Giorgio e Sauro. Cosa posso dire? Sicuramente è un'esperienza che i ragazzi vivranno al meglio sicuramente si divertiranno e la cosa bella è che molto probabilmente si troveranno dalla parte opposta di dove si trovano adesso. ovvero adesso loro chiaramente si trovano dalla parte come studenti invece adesso gli studenti saranno appunto gli anziani ai quali dovranno insegnare l'utilizzo della tecnologia che è cosa molto importante e che sicuramente sarà un bagaglio che si porteranno dietro perché sarà sicuramente per loro una bella esperienza sia per i ragazzi ma soprattutto per gli anziani o come abbiamo detto prima gli adulti longevi che forse è la terminologia più corretta. quindi io mi auguro che insomma vada bene come sono convinto che andrà bene ci sarà molta partecipazione e faccio l'imboca lupo a tutti quanti Da un'idea del centro studi Vitruviani il noto artista Giuliano Vangi già autore della statua della Concordia si è reso disponibile a realizzare una scultura dell'uomo vitruviano collegata a un intervento urbano da realizzare in piazza avvenuti ora però si cercano risorse per finanziare il progetto sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Massimo Foghetti Un segno tangibile della presenza di Vitruvio a Fano in attesa che vengono scoperti i resti della sua celebre basilica viene dato da un'opera a lui dedicata dal maestro Giuliano Vangi uno dei più noti scultori contemporanei in tutto il mondo di cui la città già possiede la statua della Concordia posta sulla sommità della fontana di piazza Ammiani un monumento a Vitruvio nato dalla proposta del Centro Studi Vitruviani che è stato presentato dallo stesso autore insieme ai rappresentanti del centro e dell'amministrazione comunale questa volta non si tratta di una singola statua ma di un vero e proprio intervento urbanistico formato da una piazza circolare la cui circonferenza è a forma di panchina con al centro una base in marmo su cui poggia una elaborazione dell'uomo vitruviano di Leonardo da una parte e dall'altra la riproposizione della pietà rondanini di Michelangelo e due figure di un uomo e di una donna quali cittadini contemporanei al presidente del Centro Studi Vitruviano Dino Zachilli abbiamo chiesto come è nata l'idea di questo progetto che caratterizzerà fortemente la città di Fano è nata diciamo così, non dico per caso però da una sollecitazione che io stesso ho fatto con una mail al maestro e poi ci siamo visti, ne abbiamo discusso lui ha cominciato a lavorare subito e ha prodotto un progetto di scultura urbana che scaturisce proprio dalle pagine di Vitruvio gioca con gli elementi geometrici del cerchio e del quadrato per prima disegnare il sostegno dell'uomo che viene innalzato in alto, visibile a tutti e poi col cerchio e col quadrato gioca a livello orizzontale che possibilità abbiamo di realizzare l'opera dove sarà collocata e poi chi sosterrà l'impegno finanziario? Beh, su questo allora la prima cosa importante che io sottolineo con favore è che l'amministrazione comunale abbia raccolto convintamente questa idea se la città la condivide io credo che il sindaco, l'amministrazione sia perfettamente in grado di reperire le risorse necessarie La realizzazione dell'opera non dovrebbe costare di più ha aggiunto Zacchilli di un campo sintetico da calcio e per quanto riguarda il luogo è stata indicata Piazza Veduti dove una volta era il foro di Fanon Fortune e dove, presumibilmente si trova la basilica di Vitruvio Comunque, dialogare con l'uomo vitruviano di Leonardo non è certo un compito facile Sentiamo cosa ci ha risposto lo stesso Giuliano Vangi è un'impresa molto difficile è difficile fare un colloquio con Vitruvio perché Vitruvio è un architetto fantastico basava tutto sulla perfezione, sulla misura perché io non volevo fare un monumento che si passa sotto e si guarda magari la statua volevo fare una cosa da poterci vivere da poterci camminare dentro da poter dar modo ai cittadini di capirle e di viverla è composto da varie materie da acciaio inossidabile marmo bianco e pietra di apriscena vi ricordo che lunedì sera torna in diretta a Primo Cittadino e sarà nostro ospite il sindaco di Cagli Alberto Alessandri tra poco invece trasmetteremo le interviste realizzate alla cena grassa del Carnevale di Fano e poi un approfondimento condotto da Maria Elena Delbianco dedicato al documentario dello studio del Bianco di Fano un progetto che contiene foto e video inedite della Fano che fu e che trasmetteremo domani sera subito dopo il nostro telegiornale grazie per averci seguito vi ricordo l'appuntamento con l'informazione che torna domani mattina alle 7 sempre in diretta con Massimo Foghetti buona serata grazie per aver guardato il nostro canale